Oggi siamo sul quinto episodio di Asphalt 8 e come promesso ho comprato la Ferrari F12 berlinetta e ora ve la farò vedere. Oggi devo anche riscuotere qua il bauletto, ecco fatto. Ma ora vi faccio vedere la mia macchina. Questa qua è la mia, la mia macchina bellissima no? Eh già, niente ho promesso che nel prossimo video la farò correre col colore giallo e sì, quindi in questo video correrò con quella rossa, con questo colore e nel prossimo la farò gialla, va bene? Ragazzi scusate se ho messo un attimo in pausa il video, ma ho dovuto tagliare sì perché il caricamento è lungo e adesso si inizia la gara, ho scelto Barcellona. E sì, ci siamo otto piloti, ma c'è anche la MP4, non mi ricordo che auto è, ma è una Mercedes mi pare, non lo so, ma è della Vodafone, cioè è sponsorizzata Vodafone, non so. Sono un pochino in ansia, oh ecco, siamo a Barcellona ragazzi, la città spagnola, stiamo per correre con la mia Super Ferrari, finalmente ragazzi, eccola! E via! si parte, oh è la madonna, guardate come si danno di dentro, guardate come si danno dentro, madonna! C'è, non è come sua, non è come, ahi, ecco, e oppure mi sono schiantato, ho preso una fiancata, ma vabbè tanto, ecco qua. Scusate ragazzi, alcune volte mi si bug, ma almeno funziona il gioco, e la registrazione anche, per fortuna. Ragazzi, oh cazzo, 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 dai, tira un'altra, ma non bloccarti, ne rovini il video, vabbè, ahi, e se vedete lì nell'angolo, infatti c'è scritto Kine Master, made with Kine Master, perché ho installato quello, c'è, sì, ma dove, l'ho fatta volare, ma dove è finita, l'avete vista? C'è ragazzi, l'ho fatta volare via, non so dove è finita, ma è fatta via quella, quella macchina, non so dove è finita, a parte che adesso è partita una macchina gialla, non so dove, la macchina gialla è sparita nel nulla, cioè ragazzi, in questo gioco, più mi strabiglia, cioè, più, questo gioco mi sta strabigliando alcune volte, devo dire, tra l'altro, sì, sono ancora, sono al quinto posto, madonna, ho parecchio da recuperare, la madonna, ma che cacchio di salto è? C'è ragazzi, ok, abbiamo ancora un giro a disposizione, abbiamo ancora il secondo giro, ecco, pure ho finito il nitro, bene, andiamo avanti, dai, 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 ce la fai, ce la fai, grande, aspetta, no, bloccar, bravo, aspetta, prendo il nitro, mi serve il nitro, terza posizione, perfetto, perfetto, perfetto ragazzi, ma non bloccar, dom, vabbè, tra l'altro, sì, cerco di evitare anche di dire parolacce, perché sapete che YouTube adesso è un po' più diverso, come avete visto, FabiJ, anche lui, dice meno parolacce del solito, e allora, sì, no, 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 non schianta, non schiantiamoci, per favore, cerchiamo di evitare un incidente stradale, perché non va, no, stavo per finire fuoristrada, ma vabbè, ecco, nitro a volontà, tra l'altro uscirà a, eh, sì, come si chiama, Fast and Furious 9, cioè, mi pare, Fast and Furious Hobbs and Show, non vedo l'ora di vederlo, cioè, sarà una figata, pazzesca, dal trailer, è bellissimo, ma non vedo l'ora, boh, ragazzi, comunque questa mattina mi piace, comunque nel prossimo episodio, se volete, cioè, come ho visto, come avete votato su Instagram, in un video ho voluto fare rosso, e ora, nel prossimo, farò giallo, che ne dite, ok? Oh, ecco che arrivo, arrivo al primo posto, sì, e vai, ah, ragazzi, ragazzi, la mia Super Ferrari è una figata, oh, eccola, ah, sì, anche schiantata adesso, ma vabbè, boh, comunque, questo piccolo video era solo un test di guida di questa macchina, nel prossimo farò già con la vernice gialla, ma ne arriveranno altri, sempre con la mia affidatissima Ferrari, andremo in giro per altri circuiti, per esempio, la Tana del Drago, la Gara del Tempio, oppure che ne so altri, boh, 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 anche Venezia facciamo, dato che sono friulano e abito, e siamo vicini al Veneto, ecco, faccio uno speciale per il Veneto, quindi, sì, anche perché sono figoni, quelli del Veneto, e allora va bene, bom, spero che vi sia piaciuto questo video, iscrivetevi, attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi nessun video, e non dimenticate di seguirmi anche su Instagram e commentate, ci vediamo ragazzi, ciao! Ciao!